Intanto spieghiamo cos'è la Green Innovation. È un argomento molto importante, nel senso che sempre di più si sente parlare del problema della plastica. Noi in particolare ci occupiamo di plastica, di recupero in seconda vita della plastica e quello che è un ottimo materiale può diventare in alcuni casi, se non gestito correttamente, anche un problema. Oggi la plastica è quotidianamente demonizzata e noi qui con questa idea di progetto ecosostenibile, di filiera circolare e con sistemi di ecodesign intendiamo dare seconda vita a questa materia che è una materia stupenda. Voi lavorate soprattutto al nord ma a quanto pare avete un interesse adesso anche per il mezzogiorno in Italia? Diciamo che noi siamo partiti 30 anni fa al nord come attività di progettazione e di engineering con la società Ideaplast. Negli ultimi dieci anni, purtroppo 20-30 anni fa, di green economy si parlava molto poco e l'attività era prevalentemente speculativa sulla plastica. Negli ultimi dieci anni noi ci siamo affacciati in modo molto importante, in modo molto prepotente su quello che era il nostro concetto iniziale, che era quello di riutilizzare in seconda vita questo materiale. Ci è stato dato qui in Calabria l'opportunità dalla Regione e dal Polonet che ci ha funzionato come incubatore di quella che era un'idea che avevamo al nord e abbiamo colto questa opportunità anche coscienti del fatto che la Calabria che sta crescendo notevolmente a livello di raccolta differenziata ha la necessità di collocare in seconda vita altrettanto correttamente anche il rifiuto plastico.